Il giorno del dolore straziante per le famiglie, dolore immenso per tre comunità, Altino, Casoli, Rapino. E il giorno dell'ultimo addio alle vittime del terribile incidente stradale verificatosi sulla statale 647 nel territorio di Bucchiani, con un frontale che non ha dato scampo ad Alessandro Fiore, 23 anni, Massimiliano Fiore, 21 anni, fratelli di Casoli, Mattia Menna, 23 anni, loro cugino di Altino, Carmine Di Fazio, 37 anni, di Rapino. Nel palazzetto dello sport di Casoli l'ultimo saluto ad Alessandro, Massimiliano, Mattia, con il rito funebre dei testimoni di Geova, celebrato da Annibale Seconi, che ha ricordato le qualità dei tre ragazzi, pieni di vita, di sogni, di aspirazioni, dando speranza e forza con le parole della Bibbia e con il significato dato alla morte dalla loro religione. Composto il dolore di Domenico Fiore, papà di Alessandro il Massimiliano, che ha parlato a nome delle famiglie. Queste situazioni tragiche fanno comprendere quali sono i veri valori della vita, ha detto. Presenti i sindaci di Casoli, Altino, Rapino, Gesso Palena, Farra San Martino. Massimo Tiberini, tre comunità addolorate, lei è il sindaco di Casoli, oggi è il giorno del rispetto e del dolore. La sua entesi, la vicinanza, tre comunità distrutte, quattro giovani ragazzi stupendi, tutte e quattro, indistintamente. Le famiglie bellissime, una dignità unica, un profondo rispetto da parte nostra. Non riesco ad esprimere nessun'altra parola se non la vicinanza e la presenza silenziosa. Vincenzo Muratelli, sindaco di Altino, è il momento più triste in cui si porta a una fascia tricolore? Un momento difficile, un momento triste per diverse comunità e io immagino per un'intera regione. Un dolore che non siamo riusciti a colmare con le parole in questi giorni, nonostante abbiamo condiviso anche con le famiglie momenti di incontro. La vicinanza di un'intera comunità vuole essere rappresentata dalla mia presenza qui. Oggi sarò anche a Rapino insieme al sindaco di Casoli per testimoniare la vicinanza a un'altra comunità dilaniata da un dolore immenso, incolmabile. Rocco Micucci, il lutto anche a Rapino? Guardi, io penso che oggi è una nazione in lutto perché l'immaginario collettivo di un'intera nazione è stato sconvolto dal fatto che quattro vite siano state spezzate in questa maniera così tragica. Quindi ci sentiamo accomunati al dolore di tutto, di tutte le famiglie, soprattutto di tutte le comunità e oggi sono qua a testimoniarlo proprio in nome della mia città, del mio paese. Naturalmente è una cosa che è talmente forte che è difficile da trovare una giustificazione, però dobbiamo andare avanti proprio per loro, per questi ragazzi e per gli altri ragazzi che oggi restano e devono avere il loro ricordo e devono coltivarlo perché questa è la cosa che la nostra fede ci insegna. Fiori bianchi sulle tre bare, difficile il distacco, ma come è stato detto questi ragazzi riapriranno gli occhi e non moriranno più.